M9 è invaso dalla street art. Abbiamo questa meravigliosa mostra su Benzi, caso unico in Italia perché propone opere uniche, questi tre muri che tanto fanno meravigliare e che insieme con il dipinto che Benzi cinque anni fa regalò alla città di Venezia, fanno sì che questo sia luogo con più Benzi originali al mondo, quindi un'occasione unica per venire a vedere. Al piano di sotto abbiamo un'opera dove gli artisti nazionali e molti sono locali, è stata una sorpresa poter vedere come dal Veneto provengono grandi ed importanti street artist, abbiamo il grande muro Season Greetings al pian terreno e poi tutti i sabati azioni di action painting intorno al museo, oltre che a tantissime attività per i ragazzi, per le famiglie, per chiunque voglia approfondire, anche con conferenze, passeggiate o corse in bicicletta, insomma chiunque voglia approfondire il tema qui troverà il modo giusto per farlo. È davvero un'operazione che è rivolta alla comunità, è un'operazione che è anche divertente, dove si impara e dove si comincia a ragionare intorno a un patrimonio culturale che è importante e che ci riguarda tutti da vicino, perché poi l'altra grande potenza dell'arte che ha Bansky è quella di parlare ad ognuno di noi di temi che ci riguardano in maniera importante. La street art nasce come movimento che si muove nell'illegalità e questa era anche un'urgenza comunicativa dei primi ragazzi che hanno cominciato a New York negli anni 70 a dipingere treni e palazzi. È passato molto tempo da allora, la street art ha continuato ad essere quello che era e quindi un po' un'arte di tutti, un'arte di rivendicazione, di ribellione, ma soprattutto un'arte che poteva sparire da un momento all'altro. Poteva essere il palazzo distrutto e costruito uno nuovo, poteva passare un altro artista e disegnare sopra il pezzo già esistente e gli agenti atmosferici potevano cancellarlo con il tempo. Proprio perché sono passati tutti questi anni è un movimento artistico che ha evoluto. Gli artisti, soprattutto poi con Bansky, insieme a Bansky, hanno cominciato ad entrare nei musei, nelle gallerie, nel mercato dell'arte e sono diventati un po' un'altra cosa. Quindi ad oggi, da storica dell'arte, penso che la conservazione e la tutela di questo patrimonio artistico sia assolutamente necessaria. L'evento eccezionale all'M9 di Mestre è il dialogo fra alcuni dei muri più iconici, importanti che Bansky ha realizzato, soprattutto Season Greetings, anche quello che ha le nostre spalle e un altro, e l'opera Il bambino migrante che è stata realizzata a Venezia nel 2019. In questo modo il rapporto col territorio, con la città e con l'attenzione che Bansky ha manifestato per Venezia, viene fortemente sottolineato. È una mostra unica, eccezionale, mai vista, che si trova in un contesto veramente unico, come l'M9 di Mestre, che meritava un'operazione così coraggiosa. La mostra è Bexie, Painting Walls, dal 23 febbraio al 2 giugno al Museo M9 di Mestre.